Amici di Colorado, basciamo le mani, Rosario Capesce della ce la vediamo noi a livello personalmente shopping Sì, signori, chiamate l'800, 900, 4 deficienti e riceverete a casa vostra le offerte che non potete rifiutare, signori Sì, ce la vediamo noi a livello personalmente, l'angosta, molto bene, signori Una cosa importante, una cosa di servizio, però prima di iniziare l'offertura, i poveri Mi raccomando, i poveri, non chiamate, maledetti poveri, vi riconosciamo dalla voce al telefono che siete poveri Veniamo a casa vostra, perché sappiamo dove state, e vi spariamo nella ginocchia, vi demogliamo l'incisimi con la martellate Vi buttiamo nella vasca dei piragna, poveri, maledetti, stanno attenti, non chiamate, bastardi Pondo bene, allora diceva, 804 deficienti, signori, pensiamo ai vostri figli, per esempio L'istruzione dei vostri figli, la preparazione scolastica, signori, noi ce la vediamo noi, diamo una preparazione a tutto tondo Signore, un'offerta irrinunciabile, a casa vostra, a soli 740 euro, lordi, cioè al nero, in contanti, allora Signore, a casa vostra, per vostro figlio, per una preparazione a tutto tondo, dicevamo Insegnante di bullismo, sì, signori, un preparato, istruttissimo, insegnante di bullismo Signori, questo, no, solo c'è un cervello così, ma questo è una bestia, è un animale Signori, questo è cattivo, ha fatto galera, è prepotente, è pazza, è paranoica Ogni tanto si può attirare di cocaina, signori, questo è veramente cattivo E insegnate la vostra figlia a diventare così, sì, con i compagni di scuola, con i più piccoli, con le bambine Con i disabili, con le suore, con le vecchie, signori, sì, vostro figlio sarà un vero bullo E che cazzo, allora bene, chiamatelo 800, 900, 400, 200 E signori, con l'insegnante di bullismo, riceverete a casa vostra una troupe televisiva Che filmerà vostro figlio, mentre fa bullismo a scuola Signori, basta con questi filmatini spixelati in internet, che non si vede un cazzo Signori, una troupe, dicevamo di questa regista che è incredibile, è minimo 4 chili Signori, il Polanski di Seconditiano, che cazzo E allora, telefonate perché vedete in internet, già con tutte le fasce annarite Diciamo, vostro figlio e i compagni che fanno bullismo Molto bene, 800, 900, 400, 200 Diciamo, vostro figlio e i compagni che fanno